Alta moda in scena a Roma, all'interno del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, sfilano le creazioni per la primavera-estate 2010. Oltre le grandi firme da Sarli a Gattinoni e Balestra, le passerelle romane premiano anche i giovani talenti dell'Accademia di Costume e Moda che hanno presentato i loro final work, cioè le creazioni di fine corso. Spazio anche agli stilisti emergenti d'Oriente con la collezione The Art of the Loom, promossa sempre dall'Accademia in collaborazione con il National Institute of Fashion di Nuova Delhi e la provincia di Roma. Bisogna puntare sui talenti, sulla creatività e sostenere tutte quelle iniziative che promuovano i giovani, dice il presidente Nicola Zingaretti. La valorizzazione dei talenti e della creatività dei giovani è l'incontro tra le culture differenti. Le diversità non sono mai un problema e questi progetti dimostrano come attraverso la valorizzazione delle differenze, dello scambio, della capacità di lavorare insieme, si crea e mai si distrugge. Non solo esordienti però, proprio Nicola Zingaretti parla di un nuovo progetto in cantiere, le grandi interviste ai grandi stilisti della moda, un modo per far conoscere meglio al pubblico romano i maestri italiani dello stile.